La Lega Pro ufficializza i criteri di accesso alla Coppa Italia Team targata 2014-2015 rendendo note di fatto le 27 squadre di categoria che disputeranno il primo turno eliminatorio tra di loro anche il Cadanzaro che si qualifica alla competizione tricolore insieme alle 11 società di prima divisione classificatesi tra il terzo e l'ottavo posto nei due gironi al termine dell'ultimo torneo con il club dei tre colli quindi su Tirol, Cremonese, Savona, Vicenza, Albinoleffe, Como, Faralpi, Salò per il girone A Lecce, Pisa, Benevento, L'Aquila e Pontedera per il girone B Spazio anche a Monza e Salernitana come finalisti dell'ultima edizione della Coppa Cercano gloria pure otto società dell'ultima seconda divisione Le prime quattro per girone quindi Bassano, Renata, Alessandria e Sant'Arcangelo, Messina, Casertana, Teramo e Cosenza Il gruppo calabrese si completa con la regina che insieme alla Novara, la Juve Stabbia ed il Padova chiude il quadro delle formazioni chiamate ad affrontare il turno eliminatorio di Team Cup che si disputerà sabato 9 e domenica 10 agosto